allora all in videoclip che tu dica fa il nuovo singolo di angelina mango e brano il migliore debutto femminile solita del 2023 con quasi 200.000 streaming in 24 ore al successo del nuovo singolo si aggiunge sal out di tutte le date del voglio di vivere tu che sono stato anche io a verona ragazzi ci sono fatta la fotografia ma cantante e come sto parlando adesso è di angelina mango il suo nuovo inedito che tu dica fa tra cui come va a finire sulle piattaforme di angelina mango io faccio complimenti a lei complimenti alla sua carriera in bocca al lupo mi raccomando angelina rimane sempre te stessa perché sei una bravissima persona ti ho conosciuto a verona e spero di vederti ancora ti mando un bacio ragazzi se questo video vi è piaciuto mettete un like e scrivete un commento da ciro mangiare tutto bella bravissima